Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa stola a punto picot perché ha tutti questi pippiolini enormi in questa lavorazione che se vogliamo sembra formare addirittura dei cuori, un punto che mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi, l'ho realizzato appunto con questo cotone nuovo e il risultato mi soddisfa tantissimo e che altro dire, io vi lascio il tutorial, fatemi sapere i commenti, un bacione enorme, ciao! Come vi avevo già preannunciato, oggi andiamo a realizzare una stola con il cotonello Rio, che è questo cotonello sfumato, io ho scelto il colore lilla che parte dal viola, passa per il lilla e arriva per il panna, è leggermente scherziato e lo andiamo a lavorare con un uncinetto numero 3 e questo super gomitolo da 200 grammi ha questo filo che esce dal sacchetto che noi tirandolo inizieremo appunto a lavorare partendo dal centro e dalla tonalità di colore più scura. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete trovare in vendita sul sito www.merceriamari.it e che ho già fatto un altro tutorial dove recensisco questo cotone e alcuni altri filati estivi, quindi vi lascerò sempre il link in descrizione e vi consiglio di andarlo a vedere. la prima cosa da fare per incominciare la nostra stola è avviare una serie di 60 catenelle una volta realizzate tutte e 60 le nostre catenelle iniziamo la lavorazione vera e propria che è composta da due giri di lavorazioni diverse che però poi si ripeteranno per tutta la lunghezza della nostra stola quindi una volta che vedremo assieme questi appunto questi primi due giri saranno gli stessi poi per tutta la lunghezza. Allora abbiamo realizzato le nostre 60 catenelle ne facciamo ancora una per iniziare a lavorare e nei primi due punti delle prime due catenelle dobbiamo andare a lavorare due maglie basse. Una maglia bassa e due maglie basse. Adesso dobbiamo lavorare una serie di catenelle che ci permettono di avere poi un pippiolino quindi facciamo due catenelle e poi ne facciamo altre cinque. Di queste cinque che andremo a effettuare dovremo poi andarle a chiudere assieme per formare il pippiolino quindi due catenelle che sono a sé più cinque. Una, due, tre, quattro e cinque con l'uncinetto punto nella prima di queste cinque quindi le altre due le lascio dove sono punto nella prima di queste cinque e vado a fare una maglia bassissima in questo modo e vedete che si è creato il pippiolino. Adesso lo giro in modo che il pippiolino stia rivolto verso il basso, verso l'interno della nostra lavorazione e poi vado a realizzare altre tre catenelle. Una, due e tre. Voilà! Salto tre catenelle del giro di base. Una, due e tre. Punto nella quarta. E andiamo a realizzare una maglia bassa seguita da altre due maglie basse che andremo a fare nei successivi due punti. Una e una due. E questo è il risultato. Adesso dobbiamo ripetere questo archetto per formare una altro pippiolino. Quindi facciamo di nuovo due catenelle seguite da altre cinque. Una, due, tre, quattro e cinque che andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi con l'uncinetto torno indietro e punto nella prima catenella di questa serie da cinque e le chiudo con una maglia bassissima. Faccio altre tre catenelle. scusatemi. Ricordatevi sempre che prima di fare queste tre catenelle dobbiamo girare il pippiolino in modo che stia rivolto verso il basso, altrimenti lui tenderà a rivolgersi verso l'alto. Quindi lo giriamo e facciamo le nostre tre catenelle. Saltiamo una, due e tre catenelle della maglia di base, puntiamo l'uncinetto e realizziamo tre maglie basse. A questo punto dobbiamo ripetere tutto questo procedimento per tutta la lunghezza delle nostre catenelle. Quindi adesso rifaremo la serie di catenelle che formeranno il nostro pippiolino alternate da queste tre maglie basse e dobbiamo ripetere appunto questa elaborazione per tutto il giro. Allora ho terminato il mio primo giro e vi ricordo che al fondo le ultime maglie basse che dovete fare sono due e non tre. Due come due avevamo fatto qui all'inizio. Ok? Adesso vi faccio vedere il secondo giro che compone questo modulo. Allora giriamo il lavoro e facciamo una catenella. E andiamo a fare una maglia bassa sulla prima maglia bassa del giro sottostante. In questo modo. Dopodiché dobbiamo puntare in questo archetto di catenelle col pippiolino che abbiamo fatto e dobbiamo andare a realizzare un totale di sette maglie basse sulle catenelle che abbiamo. Quindi una, due, tre, quattro la vado a fare esattamente sul pippiolino. 5, 6 e 7. Vado a fare esattamente sulle catenelle dell'altro lato. Vedete che il nostro pippiolino sta bello giù al centro e questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare, qui abbiamo le tre maglie basse del giro precedente. Saltiamo la prima, puntiamo nella seconda, in quella centrale e andiamo a fare una maglia bassa. Così. Adesso saltiamo l'altra maglia bassa delle tre e puntiamo di nuovo nell'archetto che abbiamo e di nuovo dobbiamo andare a realizzare un totale di sette maglie basse all'interno di questo archetto. Quindi una, due, tre. La quarta la vado a fare proprio in cima al nostro pippiolino. Quindi questa è la quarta. Vado dall'altro lato del pippiolino e faccio 5, 6 e 7. Adesso abbiamo di nuovo di fronte le nostre tre maglie basse, puntiamo in quella centrale e facciamo una maglia bassa. Saltiamo la successiva e puntiamo nell'archetto seguente e di nuovo dobbiamo fare sette maglie basse in totale. Quindi una, due e tre la faccio nella prima parte di catenelle. La quarta la vado a fare esattamente in cima al pippiolino. Così. E le altre tre le vado a fare dall'altro lato delle catenelle. Quindi una, due e tre e ne abbiamo sette in totale. Vedete? In questo modo. Adesso vado qui e punto nella catenella centrale delle tre. E di nuovo ripeto lo stesso procedimento per gli altri archetti e così appunto per tutto questo giro. Una volta arrivati all'ultimo archetto, chiudiamo il giro andando a fare una maglia bassa sull'ultima maglia bassa del giro precedente. In questo modo. Adesso giriamo il lavoro e vi faccio vedere come fare il prossimo giro con gli archetti di pippiolini che abbiamo già fatto, però li faremo volanti non più sulle catenelle, ma qua sopra, sopra questi archetti che già abbiamo, quindi la lavorazione cambia leggermente, ma veramente solo leggermente. Allora partiamo avviando sei catenelle che corrispondono quattro a una maglia altissima più due catenelle. Cinque e sei catenelle. Saltiamo una e una due maglia bassa del giro precedente, puntiamo nella terza e andiamo a lavorare una maglia bassa, seguita da altre due maglie basse che andiamo a lavorare nei seguenti due punti, per un totale quindi di tre maglie basse. E questo è quello che ci servirà a inizio giro e che poi dovremo ripetere alla fine del giro. Adesso da qui in poi la lavorazione prosegue come prima facendo gli archetti di catenelle, quindi due catenelle più cinque catenelle, una, due, tre, quattro e cinque, che andiamo a chiudere con una maglia bassissima formando il pippiolino, giriamo il nostro pippiolino e andiamo a fare tre catenelle, una, due e tre. Adesso dove puntiamo? Saltiamo tutto questo archetto finale e poi andiamo a saltare di nuovo le prime due maglie dell'archetto successivo, puntiamo nella terza e facciamo una maglia bassa, quindi vedete che si forma in questo modo. Ho saltato tutte le maglie, una e due maglie, quella centrale è una e due maglie dell'archetto seguente. Adesso qui ho fatto già una maglia bassa, devo andarne a fare ancora due nei successivi due punti e poi ripeto il mio secondo pippiolino, quindi uno e due catenelle, cinque catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima, quindi con l'uncinetto appunto nella prima di queste cinque catenelle faccio una maglia bassissima, giro il mio pippiolino rivolto verso il basso e faccio altre tre catenelle. Quindi salto tutto questo archetto e le prime due maglie dell'archetto successivo, punto nella terza e vado a fare una maglia bassa e lavoro altre due maglie basse nei successivi due punti, quindi avrò un totale di tre maglie basse. Vedete? E si formano di nuovo gli archetti in questo modo, ok? E proseguo così fino alla fine del giro. Quindi adesso faremo di nuovo due catenelle, più cinque catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima, più altre tre catenelle, poi andremo a puntare qui, faremo tre maglie basse e così via. Allora, alla fine del giro dovrete aver fatto l'ultimo archetto col pippiolino, più le tre maglie basse. Adesso andiamo a fare due catenelle e una maglia alta doppia puntando nell'ultima maglia del giro. In questo modo. E vedete che abbiamo chiuso esattamente come avevamo iniziato. Adesso voltiamo il lavoro e andiamo di nuovo a fare il giro di sole maglie basse. Quindi adesso voltiamo il nostro lavoro e sulla maglia altissima con le due catenelle andiamo a fare innanzitutto una catenella e dopodiché andiamo a lavorare quattro maglie maglie basse. Una, due, tre e quattro. Così. Aspettate, la quarta la facciamo qui. Benissimo. Dopodiché abbiamo le nostre tre maglie basse, andiamo a lavorare quella centrale facendo un'altra maglia bassa e dopo dobbiamo ripetere il secondo giro che abbiamo fatto prima. Quindi sette maglie basse all'interno di ogni archetto. Quindi una, due, tre. La quarta la andiamo a fare qui, sopra il nostro pippiolino e le altre tre le andiamo a fare dall'altro lato. Quindi una, due e tre. Dopodiché andiamo a fare una maglia bassa nella seconda maglia bassa delle tre che ci troviamo nel giro di sotto e così via. Esattamente come prima. Quindi qui, in questo giro, dobbiamo semplicemente andare a riempire tutti i nostri archetti di maglia bassa. E da questo giro in poi gli altri si ripeteranno. Io quindi adesso vado avanti un po' e poi vi faccio vedere il risultato. Allora, eccoci qua. Ho terminato di realizzare il mio chalet. Vedete, qui vedete tutto il colore che sfuma, quindi che passa da un viola scuro a un viola molto acceso, che è questo qua. Poi passa a un viola scuro, a un lilla, a un color lavanda e poi a un lilla pallido pallido. E poi sfumo nel beige per poi ritornare nei colori di inizio. Quindi questo è lo chalet che io ho realizzato. Ho utilizzato due gomitoli da 200 grammi del cotonello Rio e questo è il risultato finale. Volevo solo farvi vedere ancora una cosa perché mi sono resa conto che probabilmente non sono stata molto chiara nella spiegazione. Io vi ho detto che i giri che si ripetono sono sempre due, i primi due che noi abbiamo visto ed è assolutamente vero. Quello che cambia è che, vedete qui, a inizio giro e la stessa cosa vale per la fine, i giri si alternano. Quindi il primo giro inizia con le 6 catenelle, 4 sarebbero quelle che sostituiscono una maglia altissima e 2 sono quelle che formano il nostro archetto. E il giro finirà poi di nuovo con 2 catenelle e una maglia altissima. L'altro giro subito dopo invece inizia subito con la maglia bassa, quindi si alternano i due inizi. Questo forse non era stato molto chiaro quando ve l'ho fatto vedere, però dovete sempre, i giri sono sempre due, uno fa gli archetti e l'altro li riempie. Però gli inizi si alternano, uno con una maglia bassa e quello successivo invece con le catenelle che sostituiscono la maglia altissima che poi invece si andrà a fare alla fine. Quindi vedete che io ho sempre, il primo giro era iniziato con la maglia bassa, no? E abbiamo fatto i nostri archetti di catenelle peppiolino, poi abbiamo fatto il giro di maglie basse e poi il giro dopo l'abbiamo iniziato con le catenelle che sarebbero, vedete questo pezzettino qua, che è la nostra maglia altissima. Poi abbiamo di nuovo riempito e poi abbiamo di nuovo iniziato con una maglia bassa, abbiamo riempito con il giro di catenelle e abbiamo iniziato con le, abbiamo riempito con le maglie basse e abbiamo iniziato col giro del, qui vedete qua, sono le nostre catenelle che sostituiscono la maglia alta, quindi si alternano questi inizi, però i due, i giri che si ripetono sono sempre due, dovete solo alternare come iniziare i vari giri. Questo è quanto, io spero che vi piaccia, questo shawl, io sono contentissima, il cotonello rio, mi è piaciuto veramente molto, il risultato mi soddisfa tantissimo e spero che piaccia anche a voi, se provate a realizzarlo, qualcuno di voi l'ha già anche acquistato, se provate a realizzare questo shawl o altre cose, vi prego di mandarmi le foto delle vostre creazioni sul gruppo Mari e le amiche uncinettine, io sono sempre molto contenta di vedere quello che ognuno di voi realizza, ecco. Quindi vi aspetto sulla pagina Facebook, fatemi sapere i vostri commenti, le vostre opinioni e io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao!